In studio, Viviana Sammito. Buon pomeriggio, sono state evacuate oltre 150 persone a causa dei roghi che stanno lambendo l'intera Sicilia. Il sindaco di Cefalu ha parlato di terroristi. Facciamo il punto nel servizio di Marco Scavino. Fiamme per tutta la giornata di ieri hanno flagellato la Sicilia. Circa 150 le persone evacuate la notte scorsa dai sindaci e dalle forze dell'ordine a causa degli incendi che hanno interessato la zona di San Pierniceto, Condro e Gioiosa Marea nel Messinese. Decine sono le case bruciate, specialmente nei tetti in legno, infissi esterni e tettoie. Le fiamme, in alcuni casi, sono arrivate anche all'interno delle abitazioni. Sono inoltre intervenute decine di squadre di volontari antincendio dalla provincia di Catania, Grigento e Enna, attivati e coordinati dai funzionari del Dipartimento di Protezione Civile che hanno collaborato con le squadre dei Vigili del Fuoco. La situazione è adesso sotto controllo e migliorano le condizioni meteo. Dalla mattinata stanno operando Canadair dai Vigili del Fuoco e elicotteri della Forrestale, pertanto al momento non necessitano ulteriori rinforzi di squadre di volontari di altre province, ha detto Bruno Manfred, capo servizio di Messina della Protezione Civile Regionale. Nel Messinese è arrivato anche il direttore generale della Protezione Civile Siciliana, Salvo Cocina, che ha seguito gli sviluppi dell'emergenza. Incendi anche nel versante occidentale, in particolare nel Palermitano. La zona più colpita è quella di Corleone, quella di Cefalù. Ed è da quest'ultimo comune che parla il sindaco Daniele Tuminello. C'è un piano che mette a rischio le nostre vite. Si tratta di terroristi. Sembra un vero piano del terrore, studiato e messo in opera da vigliacchi organizzati che analizzano in anticipo il meteo e colpiscono contemporaneamente in più punti in comuni diversi nelle ore serali per rendere assai difficoltose, se non impossibili, le opere di spegnimento, ha detto Tuminello. Si attende ancora l'ok da parte del Governo nazionale per i danni che hanno subito molte imprenditure lo scorso mese di luglio per gli incendi che hanno lambito la Sicilia. Non l'abbiamo chiesto la parlamentare nazionale della Lega Valeria Sudano. Sentiamo cosa ha risposto. Sara Don Zuso. Gli incendi dello scorso luglio, quelli che dal 24 al 27 hanno mandato in fumo decine di ettari e messo in un ginocchio diverse aziende, hanno creato un danno economico ingente. Proprio per questo la Regione ha richiesto dal Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello Stato di calamità, dopo aver chiesto nell'immediato lo Stato di emergenza. Adesso dunque la palla passa allo Stato. Gli imprenditori hanno bisogno di queste misure perché hanno sborsato di tasca propria risorse importanti per far ripartire le proprie aziende, per evitare cassa integrazione e licenziamenti dei dipendenti. Danni che sono stati relazionati dagli imprenditori che hanno bisogno degli aiuti. Lo Stato è pronto a recepire la richiesta del Governo regionale? L'abbiamo chiesto a un esponente alla maggioranza, l'onorevole Valeria Sudano. Lo Stato può intervenire, bisogna dire che in realtà questo Stato di calamità non riguarda soltanto luglio, ma abbiamo avuto incendi fino a ieri, l'altro ieri, perché è inutile far finta di non vedere che i cambiamenti climatici hanno comportato anche un caldo eccessivo a fine ottobre e soprattutto dei comportamenti dolosi che andranno ricercati, come combatterli e di conseguenza riuscire a trovare delle soluzioni per evitarli per il futuro. Oggi va affrontata l'emergenza, le mancate produzioni, i danni che sono stati fatti alle imprese, all'agricoltura, ai cittadini, alle case. Il Governo regionale ha dichiarato lo Stato di calamità, di conseguenza lo farà il Governo nazionale. Sono certa che si interverrà, spero anche con la finanziaria stessa dello Stato, a intervenire su tutti quelli che sono i danni che ha subito la nostra regione. Da un punto di vista proprio pratico, che tempi ci sono fra quando viene richiesta la regione e quando lo Stato può poi dare l'ok? Già, nel momento in cui viene deliberata nell'Aggiunta di Governo, il Ministro della Protezione Civile può portare nel Consiglio dei Ministri lo Stato di calamità per la Regione Sicilia. Andiamo a Trapani, dove è stato arrestato in flagranza di reato un 25enne per tentato omicidio. ha aizzato il suo pitbull contro i carabinieri. Deve rispondere di tentato omicidio e porto di armi o oggetti atti ad offendere un 25enne di Buonagia in provincia di Trapani, che ha scagliato e aizzato contro i carabinieri il suo cane, un pitbull, tentando anche di colpirli con un grosso coltello da cucina. I carabinieri della stazione di Valderi ce lo hanno arrestato in flagranza di reato. Il giovane con precedenti di polizia, benché sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora e il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne, sarebbe stato sorpreso fuori dalla propria casa, da una pattuglia dei carabinieri in servizio di perlustrazione. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico che è stato sequestrato. La perquisizione è stata poi estesa anche all'abitazione, dove il 25enne ha assunto un atteggiamento violento e ingiurioso nei confronti dei militari, che per fortuna lo hanno disarmato e immobilizzato e adesso si trova nel carcere di Trapani. Minacce di morte e violenza nei confronti dell'ex convivente. È stato arrestato e condotto in carcere un 38enne. È stato rinchiuso in carcere un 38enne di Siracusa ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. La donna ha denunciato tutto dopo l'ennesima violenza culminata anche in abuso sessuale in presenza della figlia minore della coppia. Mesi di angoscia in cui la vittima doveva proteggersi dalle irruzioni dell'uomo in casa, dalle sue percosse e dalle sue minacce di morte. Minacce che destinava anche a familiari della donna era costretta a riportare alla vittima le frasi proferite dall'ex convivente. In più di un'occasione l'uomo l'aveva seguita e a volte anche si era arrampicato dalla finestra per irrompere all'interno dell'abitazione. La vittima aveva sempre chiesto di smettere con questo atteggiamento in quanto per lei la storia era finita. Nonostante tutto l'uomo ha continuato con un'escalation di violenza culminata nella violenza sessuale denunciata alla polizia. Nel corso delle indagini sono stati acquisiti numerosi elementi a riscontro delle dichiarazioni della parte offesa e sono stati anche ascoltate diverse persone informate sui fatti. Rilevatisi tutti indispensabili per la contestazione delle accuse a carico della persona indagata. La Polizia di Stato ha dato così esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare con la quale il GIP del Tribunale di Siracusa, su richiesta della Procura, ha disposto il carcere nei confronti del 38enne indagato per il delitto di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale aggravata, furto e revenge porn ai danni dell'ex compagna. Un altro arresto è stato eseguito dalla Polizia dopo un'attentata rapina in una gioielleria ieri pomeriggio a Comiso. Ce ne parla Veronica Pulisi. E' stato arrestato in flagranza tempestivamente dalla Polizia di Stato, l'uomo che nel pomeriggio di ieri ha tentato una rapina in una gioielleria di Viale Vittorio Emanuele a Comiso. Sembrava un pomeriggio tranquillo, racconta il titolare Simone Salerno, ascoltato da noi al telefono, quando intorno alle 17 si presenta alla porta d'ingresso un uomo sulla quarantina, conosciuto in città e dallo stesso proprietario che apre senza alcuna esitazione. L'uomo ha chiesto di visionare degli oggetti, scegliendone uno, al momento del confezionamento però si dirige dietro al bancone, straendo una pistola e minacciando Salerno di consegnargli quanto aveva sul bancone. Il titolare è riuscito a mantenere la karma, ma ne nasce comunque una colluttazione. Negli attimi concitati, l'uomo lascia la pistola, il proprietario riesce a dirigersi verso la porta, chiudendo automaticamente l'ingresso. Chiede aiuto alle attività commerciali vicine, che avvertono le forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato e la polizia locale, che attraverso lo speed control ha bloccato l'arteria al transito dei pedoni. L'uomo rimane all'interno del locale, stando al racconto del proprietario, ha nascosto dapprimo la pistola nel magazzino e poi ha atteso l'arrivo delle forze dell'ordine seduto con una sigaretta accesa. All'arrivo della polizia non ha opposto resistenza, la pistola è risultata caricata a salve. Sul caso intanto continuano le indagini delle forze dell'ordine. A Catania un detenuto del carcere di Piazza Lanza ha tentato di strangolare un agente della polizia penitenziaria che lo stava facendo rientrare in cella. Il poliziotto è riuscito dopo una collutazione a divincolarsi e dare l'allarme. A rendere noto l'accaduto è il consigliere nazionale per la Sicilia del sindacato autonomo polizia penitenziaria Francesco Pennisi. Il detenuto messinese pare si sia scagliato contro l'agente per motivi relativi ad un presunto ritardo dell'agente a rispondere ad una sua chiamata. Si è discusso della separazione delle carriere nel corso di un convegno organizzato dall'Associazione Nazionale dei Magistrati a Catania. Sentiamo cosa è emerso. Il disegno di legge costituzionale in tema di separazione delle carriere tra giudici e magistrati crea malumori e pareri contrari. Ciò che si teme è che si metta a rischio la tutela dei cittadini ma anche l'indipendenza del pubblico ministero. Per cercare di dissipare qualche dubbio si è tenuto questa mattina per volere della giunta esecutiva sezionale dell'Associazione Nazionale dei Magistrati di Catania in collaborazione con il Consiglio e l'Ordine degli Avvocati e Tennei un confronto presso il Palazzo di Giustizia. Se invece un danno dovesse derivare, un vunus dovesse derivare, saranno i cittadini in primo luogo a esserne danneggiati. Debbo ritenere che vi siano alcuni aspetti del disegno di riforma costituzionale che possano farci temere questo pericolo. Ad esempio quello che prevede che sia la legge a stabilire i casi e le forme in cui si esercita l'azione penale. Oggi nella norma costituzionale verrebbe introdotto, se passasse la riforma, il principio per cui è sì obbligatoria ma i casi e le forme le stabilisce la legge, cioè la maggioranza parlamentare che poi esprime il governo. Il che vorrebbe dire che il pubblico ministero a cui compete la titolarità di quell'esercizio la dovrebbe esercitare soltanto nei casi in cui il legislatore glielo consentirebbe. E allora l'autonomia subisce un vunus da questo punto di vista. Con questa riforma si discute di fatto del futuro della giurisdizione del nostro paese. C'è un rischio di un'ancora più forte gerarchizzazione sia degli uffici di procura che degli uffici giudicanti per quello che vedo in alcune proposte che ad esempio vogliono confinare al di fuori del perimetro del CSM il Presidente della Repubblica. Con il Presidente dell'NM Catania abbiamo anche parlato del caso apostolico. Di temi giuridici si deve parlare all'interno dei binari giuridici di un confronto che rifugge facci di slogan. Mi dà anche grande serenità che altri giudici possano controllare l'operato di corti che si sono espressi su problemi così tecnicamente complessi. L'ex giudice Silvana Saguto condannata giovedì per corruzione con sentenza definitiva è stata prelevata dalla finanza alla clinica Margherita di Palermo dove era ricoverata per problemi di salute da 20 giorni. È stata condotta nel carcere Pagliarelli come l'è il marito Lorenzo Caramma pure condannato. Nel carcere di Repibbia si è costituito il professore Carmelo Provenzano mentre l'avvocato Gaetano Cappellano Seminara si è costituito nel carcere di Bollate. Entrambi sono ritenuti colpevoli di corruzione. Avevano messo su un giro di regali e favori per l'assegnazione della gestione dei beni confiscati alla mafia. Torniamo a discutere delle polemiche sull'installazione di un'antenna 5G in via Peppino Impastato a Modica perché intervenire adesso è il deputato regionale Ignazio Abate già sindaco di Modica. L'ordinanza emessa ieri dal sindaco di Modica Maria Monisteri fa chiudere i battenti al cantiere per la realizzazione di un'antenna 5G nel cuore del quartiere Sorda ovviamente per il momento. Si tratta infatti di sospensione. Una sospensione in autotutela emessa da Palazzo San Domenico e che porterà adesso a dei tavoli per confrontarsi sul tema. La referente per la Sicilia dell'Associazione Elettrosensibili e dell'alleanza italiana Stop 5G Tania Spanò ieri ha parlato anche della realtà modicana come una città che aveva mostrato un atteggiamento positivo nel contrasto dei campi elettromagnetici. Nel raccontare la propria esperienza ai nostri microfoni la Spanò aveva fatto anche riferimento a degli incontri avuti proprio con il sindaco di Modica della precedente amministrazione Ignazio Abate. È stata infatti la sua giunta nel marzo del 2020 a firmare una delibera che chiudeva la possibilità di sperimentazioni 5G in città. Sappiamo quella è stata la mia posizione. Gli anni scorsi sono stato uno dei pochissimi sindaci italiani che si è contrapposto alla possibilità di installare in modo indiscriminato tra l'ICCI e la nuova tecnologia 5G all'interno dei centri abitati. Ancora di più quando si pensa in modo furbesco di poter riuscire a distrarlarle senza una condivisione o con una concertazione con l'amministrazione, con il sindaco e l'amministrazione locale andando a sfruttare quel periodo di silenzio e assenzio e quindi in modo arrogante di poter entrare sui territori. Già la città è piena e quindi la città deve essere fatta, deve essere concertata con l'amministrazione affinché se si deve mettere o si deve potenziare utilizzando sempre gli stessi tre licci senza andare ancora di più a distruppare l'ambiente. Parliamo adesso di una serie di controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza Messina che ha scoperto oltre mille lavoratori in nero. Controlli della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Messina insieme all'Inps per contrastare le attività di fenomeni di sommerso di lavoro. I controlli hanno riguardato le attività di ristorazione con somministrazione e asporto ai lidi balneari e alle altre attività commerciali di vendita al dettaglio o tipiche della locale economia a forte vocazione turistica. Da maggio fino alla prima metà di ottobre i finanziari e gli ispettori dell'Inps hanno eseguito 154 interventi, costatando oltre mille lavoratori irregolari, di cui 209 completamente completamente in nero ed elevando sanzioni amministrative nei confronti di 88 datori di lavoro. L'Ispettorato territoriale del lavoro di Messina è emesso in oltre 39 provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale per l'utilizzo di manodopera sprovvista di assunzione rispetto a quella presente nel luogo di lavoro. Le principali violazioni sono state riscontrate in merito all'infedele registrazione del libro unico del lavoro. In particolare presso un lido del litorale nord messinese sono stati scoperti 15 lavoratori completamente in nero, di cui uno per cettore del reddito di cittadinanza. Individuati 21 lavoratori che oltre a non essere in regola con il contratto di lavoro risultavano peraltro ricompresi in nuclei familiari destinatari della particolare forma di sostegno. Adesso vi portiamo in giro a Catania con la pattuglia della Polizia Municipale dotata di street control e sono diverse le sanzioni elevate. A Catania il codice della strada da molti automobilisti non viene assolutamente rispettato, un'amara costatazione che abbiamo potuto testimoniare oggi grazie alla collaborazione della Polizia Locale Etnea che ci ha permesso di salire su una pattuglia dotata di street control, un mezzo che consente di fotografare le targhe delle auto che sono parcheggiate senza rispettare le regole stradali. Il nostro viaggio è cominciato così. La fase iniziale provvede appunto la sincronizzazione in cui io e il collega inseriremo i nostri dati affinché i verbali chiaramente verranno poi elevati al nostro nome e da lì avviamo la sincronizzazione e possiamo cominciare con le visualizzazioni che quindi sono le fotografie che scatteremo. Viaggio che abbiamo concluso in piazza Federico di Svevia davanti al Castellursino con un primo resoconto fornito dagli agenti che ci hanno accompagnato per via Plebiscito, via Le Mariola Pisardi e altre arterie stradali. Le visualizzazioni sono quasi 70, adesso ne rientreremo al comando per ovviamente avere un lavoro di scrematura, pulizia e poi chiaramente i verbali verranno inviati all'ufficio competente che poi ovviamente si occuperà di notificarli insomma i veri cittadini in frazione. Cosa avete notato di più stamattina? Come sempre purtroppo tante doppie file, marciapiedi e passaggi pedonali che sono diciamo le sanzioni principali che anche con lo street quotidianamente ci ritroviamo a elevare. E i numeri dei primi nove mesi del 2023 sono altrettanto impressionanti. La macchina è visibile, gira lentamente, si vede la telecamera ma nonostante questo e nonostante sia utilizzato lo strumento da tanti anni, fino al mese di settembre sono state già elevate 31 mila contravvenzioni di sosta con lo street control. Il rischio di prendere la multa lasciando la macchina in doppia fila o nei passaggi pedonali è veramente concreto e quindi il mio appello è quello di rispettare le norme del codice della strada e cercare tutti insieme di collaborare per rendere questa città più civile e vivibile. Continuano i controlli anche a Palermo nell'ambito del protocollo di sicurezza alto impatto. Sono 706 le persone controllate, 271 i veicoli, 70 le sanzioni al codice della strada, 14 i veicoli sequestrati, elevate sanzioni amministrative per un importo superiore a 35 mila euro, 34 i controlli nell'abitazione di soggetti sottoposti a misure restrittive. Un corso di formazione sulla cura del paziente straniero è stato organizzato dall'Associazione Misericordia di Modica. Due giornate dedicate alla presa in carico alla cura del paziente straniero con un occhio particolare alle situazioni di disagio. Si tratta del corso di formazione organizzato dall'Associazione Misericordia di Modica che ha avuto come obiettivo il rafforzamento delle competenze di professionisti e operatori che lavorano in ambito di migrazione sugli aspetti della presa in carico e della relazione di aiuto. La prima giornata è stata dedicata al rafforzamento delle competenze dei professionisti che operano in ambito socio-sanitario. La seconda invece, quella conclusiva, è stata rivolta agli operatori anche volontari e non professionisti della cura ma che si dedicano alla presa in carico. Abbiamo voluto fortemente questo momento e questo evento formativo perché ci possa aiutare soprattutto a fare rete. Dietro ogni migrante c'è una persona, un uomo, una donna e un bambino a cui va tutta la nostra attenzione. Speriamo di continuare in questo percorso di formazione per tutti i nostri operatori e volontari. Numerosi gli interventi di illustri relatori, tra i quali la dottoressa Anna Maria Fantauzzi che ha parlato delle cure e di prendersi cura del paziente straniero puntando sulla relazione volontario-ospite. Oggi abbiamo parlato del rapporto operatori-migranti in modo particolare quali possano essere le problematiche nella relazione di aiuto sia in termini di empatia e di exotopia, i sistemi di comunicazione e la necessità e l'importanza della mediazione culturale e non solo linguistica. Sugli elementi di comunicazione transculturale con il paziente straniero vulnerabile e la vulnerabilità degli operatori ha invece relazionato la dottoressa Maria Chiara Monti. Dare importanza alla salute mentale, agli aspetti psicologici e di recupero di questi ragazzi è assolutamente cruciale oggi come oggi e fare salute mentale per la popolazione emigrante significa ovviamente fare salute mentale per tutta la collettività. La storia della ragazza tunisina nata e cresciuta a Catania e raggiunta da un decreto di espulsione arrivata sulla scrivania del questore Peppe Bellassare al quale si è rivolto il penalista Giuseppe Lipera. Oggi si legge in un passaggio della lettera espellere la ragazza dal territorio italiano significherebbe privarla per sempre dei propri e unici legami familiari e della propria identità personale. La ventenne era stata riportata in teneraità in Tunisia dal padre ed è ritornata rischiando la propria vita con un marchino a Pantelleria il 25 agosto scorso per rimanere a vivere con la madre a Catania. Nei giorni scorsi il giudice di pace del Tribunale Etneo si è dichiarato però incompetente per territorio. C'è una breve pausa pubblicitaria, siamo da voi tra poco. Ancora ben trovati in studio, vi parliamo adesso della prevenzione del tumore al seno con una serie di screening gratuiti organizzati dall'Associazione Altea Salute Donna. Screening gratuiti per la prevenzione del tumore al seno metastatico ottobre è il mese della prevenzione Altea Salute Donna ha voluto sensibilizzare tutte offrendo loro l'opportunità di sottoporsi ad un controllo al seno stamattina nello studio medico a Dona Luccata la presenza del dottore Marco Ambrogio direttore dell'unità operativa semplice dipartimentale di chirurgia senologica. Il focus non è però basato sulla prevenzione occasionale ma nel trasmettere a tutte l'idea che deve diventare un atteggiamento abitudinario un modo per volersi bene. Un messaggio arriva da Donatella Di Paolo, giornalista media set che ha affrontato l'intervento e la terapia oncologica vicepresidente di Altea Salute Donna e componenti del CD Europa Donna che questa mattina è stata a Dona Luccata. Oggi si sono presentate circa una ventina di donne abbiamo avuto, pensate, delle donne che mai nella loro vita e parliamo di donne di 60, 62 anni, 52 anni non avevano mai fatto una visita senologica siamo riusciti a convincerle e questo trovo che sia fantastico una donna su 8, più di una donna su 8 viene colpita il dottore seno e in questa provincia più di una donna su 4 non fa prevenzione. Oggi una passeggiata di oltre 4 chilometri per le vie di Ragusa è dedicata alla dottoressa Nicoletta Zorzan morta di tumore, 60 anni dopo aver dedicato una vita alle donne e alla lotta al tumore. Nicoletta, originaria del Veneto era siciliana d'adozione, viveva ad Avola era presidente di Sicilia Donna a lei è dedicata la camminata per la speranza la consapevolezza e la memoria Un 25enne modicano Michele Spadaro ha vinto la selezione centro-sud del concorso emergente chef Il suo motto è Never Give Up mai mollare per nessun motivo poche parole che hanno accompagnato il giovane chef modicano Michele Spadaro 25 anni da poco compiuti ad ottenere la vittoria della selezione centro-sud del concorso emergente chef che si è disputato il 3-4 ottobre a Perugia portando alla ribalta i migliori talenti under 30 d'Italia tanta l'emozione per il modicano che dopo gli studi all'istituto professionale Principi Grimaldi di Modica da due anni lavora a Conversano in provincia di Bari tanta la soddisfazione per aver raggiunto il traguardo ambito è stato fantastico partecipare perché conosci un sacco di gente ti metti alla prova e ripeto il confronto è fondamentale sono stati dei mesi intensi di preparazione diverse prove abbiamo portato il risultato a casa ed è stato veramente bello Due le ricette che hanno voluto richiamare il suo amore per la Sicilia e la Puglia Un po' la Sicilia e un po' la Puglia che è la regione in cui lavoro i piatti che ho preparato sono stati due il primo è stato pasta e cozze che è un raviolo ripieno di cozze una pureri pomodoro bruciato e una salsa di cozze invece per quanto riguarda l'altro piatto che è cruda, cime, figo e farinella utilizzato della carne cruda delle cime di rapa della farinella di ceci tostati e del provolone 36 mesi E adesso si lavora per la finale che si disputerà a marzo 2024 ad Alma la scuola internazionale di cucina a Colorno impegno in rigore e valori assoluti del giovane modicano che sta affrontando i preparativi per una sfida importante Stiamo già lavorando duro per preparare i prossimi piatti e già stiamo facendo ricerche ho comprato dei nuovi libri per cercare di essere sempre sul pezzo perché in questo lavoro come un po' tutti gli altri lavori vabbè, sì, bravo, non bravo ma è fondamentale la costanza quindi mai mollare sempre sul pezzo sempre studiare fare delle nuove prove e non fermarti mai Ed è stato inaugurato il nuovo anno accademico dell'Uni3 La musica leggera le sue trasformazioni ma soprattutto l'impatto sociale le note dal 1925 al 1960 da Raba Ignati a Modugno Minecce Lentano passando per Nilla Pizzi e Claudio Villa Sono state queste le note che hanno accompagnato l'apertura del nuovo anno accademico dell'Uni3 di Modica un momento che ha visto alternare sul palco del teatro Garibaldi il gruppo Piano B Vocal un ensemble in band molto affermata di medici cantanti e musicisti che hanno eseguito con originali e arrangiamenti le più belle canzoni italiane come detto dal 1925 al 1960 C'è stata anche la partecipazione di Eugenio Barone anche lui medico e apprezzato autore attore di cabaret che ha arricchito la serata con monologhi che sono stati molto apprezzati poi Giuseppe Barone e Marcella Burderi a cui è stato affidato il commento storico di quei decenni che hanno visto il faticoso passaggio dal fascismo alla democrazia repubblicana un tema affascinante ha sottolineato il presidente dell'Uni3 di Modica Enzo Cavallo L'Uni3 si è presentata con un modo nuovo per l'apertura dell'anno accademico che di fatto inizia a novembre ma che già la prossima settimana ci vede in Polonia in comitiva inoltre daremo il via il 9 di novembre al giovedì dell'Uni3 un giorno scelto dal consiglio direttivo perché ogni settimana terremo al granaio delle iniziative degli incontri tematici rivolte a tutti i soci è un pubblico attento accolto l'economista ed ex senatore Carlo Cottarelli nella sala Golden Hall di Vittoria per la presentazione del libro Chimere sogni e fallimenti dell'economia Cottarelli torna nella città del Pomodorino invitato dall'Associazione Culturale Viva con il supporto di Commerfidi è stata aperta una finanza sulle scenarie geopolitici sull'inflazione in relazione anche alle guerre nel Medio Oriente e in Ucraina sulla manovra approvata dal Consiglio dei Ministri anche alla luce delle nuove misure a sostegno della famiglia un approfondimento va in onda nella rubrica eventi subito dopo questa edizione di MTG è davvero tutto grazie per la cortesa attenzione a voi tutti buon proseguimento buon weekend con l'organizzazione la nostra